L'Ariello tira dritto, chiuderà lo stabilimento di Villanova di Cepagatti e traslocherà in Polonia, dove il fisco è più vantaggioso. Nessuna novità dall'incontro di questa mattina tra l'azienda e i sindacati. 71 dipendenti, così perderanno il lavoro, e altri 19 dovranno decidere se trasferirsi all'Ecco o perdere il posto. E questo benché nel 2020, nonostante un calo dei ricavi dovuto alla crisi pandemica, la Carrer Corp, che controlla l'Ariello, abbia concluso l'anno con quasi 19 milioni di euro di utili. Una somma che a quanto pare non basta a riempire le capienti tasche della multinazionale, che seguendo l'esempio di Onewell, Betafence e altri, ha scelto la via della delocalizzazione. Le cose andavano benissimo in azienda, la produzione andava a gonfie vele, l'80% in più rispetto all'80% già fatto del 2020, quindi non c'erano i preavvisi per poter mettersi sul chi va là. È stato un fulminaccio al sereno che l'azienda il primo settembre ci ha detto e ci ha ribadito praticamente che avrebbe chiuso il sito di Pescara, ripeto, sempre e solo ed esclusivamente per una questione di costo del lavoro. Finora l'unica mossa della regione è stata una lettera firmata dal governatore Marco Marsilio, indirizzata al ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro tra i sindacati e il ministro del lavoro Andrea Orlando. Intanto per domani è stata indetta una manifestazione a Pescara in Piazza Salotto per intercettare la solidarietà dei cittadini, mentre le grandi aziende, una dopo l'altra, abbandonano l'Abruzzo. Domani è simbolica la manifestazione, nel senso che noi saremo tutti compatti, portando anche e invitando i cittadini, la collettività, perché abbiamo detto che la vertenza dell'Ariello è la vertenza di tutti, di tutti i pescaresi che devono difendere il loro territorio e in più avremo la forza di altre persone allargate in modo collettivo per chiedere alla politica che basta con le promesse, ma adesso vogliamo fatti concreti e abbiamo bisogno di risposte sia dal governo e sia il supporto del territorio per avere questo benedetto tavolo. Grazie.